Sindaco Elicio Romandini, parliamo di Poliservice, è comunque un ente che ha tra i partner la Citigas, lei è preoccupato per le tariffe e alla luce della contingenza anche del conflitto ucraino-russo? Sì, a parte il socio privato, ma insomma lì è difficile dire pure a chi si riferisce, però devo dire che ci hanno già chiamato, domani o pomeriggio abbiamo un incontro, ci sono già degli aumenti già previsti per il 2022, quindi tutto è a carico dei cittadini perché comunque la raccolta differenziata c'è ma non basta, bisogna incrementarla, la raccolta dei rifiuti comunque è costosa perché passa comunque per i mezzi, per i consumi, sappiamo che significa oggi mettere un litro di gasolio di benzina, tante altre spese ci sono e quindi ci aspettiamo, speriamo comunque di contenere al massimo i prezzi per i nostri cittadini. Sindaco, parlando di contingenerale, durante l'inaugurazione dell'Aula Consigliare, lei farà un quadro complessivo ai cittadini? Questo è il momento comunque di parlarne e di dare informazioni anche ai cittadini, la situazione è molto grave, speriamo che questa guerra finisca, quella è l'occasione pure per parlare, per dire a un comune di 10.000 abitanti quali sono i problemi a cui va incontro, perché non troviamo, comunque non vediamo la luce per arrivare a chiudere il bilancio, entrate e uscite pare a zero. Le incidenze sono tante, la pubblica illuminazione, la gestione del calore, i carburanti per i nostri mezzi, gli asfalti che sono aumentati con un aumento del 30-40%, a Roma ci sarà una riunione alla settimana prossima, sarà quella per l'occasione per informare i cittadini anche per dire dove stiamo andando e come faremo a chiudere il bilancio per il 31 di maggio.